Big match di giornata, ci propone il campione in carica dei Polo Sud contro il Conto Arancio e la sorpresa è appunto il punteggio con il Conto Arancio in vantaggio per 3 a 1 grazie a uno strepitoso Fiorillo che adesso viene lanciato però Schiano qui fa buona guardia e Bocchetti può provare a far ripartire i suoi però sbaglia il disimpegno rimessa laterale per gli arancioni con Fiorillo che evita Badolato poi cerca un colpo di tacco, ancora Fiorillo resiste a una carica, chiede forse un po' troppo riparte il contropiede di Viola con Napolitano, evita Fizzarrotti, ancora Napolitano c'è però Carbone che lo chiude in fallo laterale ancora Napolitano la gioca vicino per Bocchetti, ha un po' di spazio ancora Bocchetti Carbone però non si fa ingannare e guadagna anche la rimessa laterale buona qui la prova del numero 22 degli arancioni che di sinistro va a lanciare in avanti ancora Fiorillo per Schiano nessun problema lancia su per Napolitano anticipato dalla difesa e mai arancione poi Bocchetti in mezzo a due, a Bocchetti si accentra il tiro buona qui la respinta del portiere sul gran destro di Peppe Bocchetti Balla allontanata dalla difesa e mai arancione poi ancora Magri provando a andare via sulla odd di destra Magri calcia potente di piede Schiano, si alza un campanile Fizzarrotti poi forse in gioco pericoloso è così gioco pericoloso di Fiorillo dunque calcio di punizione in zona difensiva per Bocchetti che lascia un compagno già battuto Napolitano, zona centrale del campo allarga sulla sinistra per Bocchetti ancora scambio con Napolitano può calciare di destro, rimpallato e Fiorillo fa sportellate con un avversario il tacco, la palla attraversa tutto lo specchio della porta poi è buona ancora, non è così secondo l'arbitro il pallone è uscito seguiamo dunque quest'ultima azione con Napolitano che va via, attenzione in contropiede ancora Napolitano, calcia direttamente ad incrociare non inquadra lo specchio siamo 3-1, ultimissima azione con Magri che raccoglie palla dalla sua difesa si accentra ed esterno prova a servire Fiorillo la palla però è buona per Fizzarrotti che si accontenta della rimessa laterale in zona d'attacco però è lo stesso numero 7 degli arancioni che appoggia per Magri il sinistro, il destro termina in fallo laterale 3-1 dunque per il conto arancio e chiudiamo qui il nostro collegamento